ogni sabato sera a luogo in nome di madama arte messer spettacolo un glorioso cimento una coraggiosa attenzione un'incredibile esibizione di musica arte comica e magia fra ardimentosi speranzosi di diventare famosi ma soprattutto desiderosi di procurarvi diretto convenuti da ogni parte d'italia risoluti ad andare allo sparaglio il loro nome è dilettanti e gareggiano nella nobilissima e celeberrima i negozi semaforo qualità convenienza cortesia vi offrono per divertirsi per rilassarsi per stare insieme con allegria che piacere averti qui sì perché una trasmissione all'avanguardia una trasmissione eccezionale una trasmissione extra extra e piacere averti qui domani sera alle 20 e 30 su italia 1 linea sprint costumi da bagno vi offre miss italia in scena la bellezza il desiderio il successo la nostra storia un po di favola dal 1946 le mamme tifano le bambine spilano la giuria sorride l'italia sogna un sogno lungo 40 anni un sogno che continua da salso maggiore andrea giordana presenta miss italia domani alle 20 e 30 su canale 5 nuovo aria liquido bucato a mano vi presenta amici amiche c'è un tipo un sacco simpatico che a settembre ha pochi impegni ed è prontissima a cancellare quei pochi che ha per stare con voi il tipo si chiama carlo verdone autore attore l'appuntamento di settembre è su canale 5 e tanto per essere sicuri e fissato quattro volte un sacco bello borotalco in viaggio con papà troppo forte prima tv tutti i lunedì a settembre avranno il colore dell'allegria verdone in che senso nuovo aria liquido bucato a mano vi presenta carlo verdone ciao love 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 in che senso maggiore piccici piccici eccomo me lo ricordo homo burinos homo mammone homo hippis tipus magistralis clericalis bancarius li classifica e limita nel suo zoo ci sono un sacco di tipi un sacco simpatici lunedì un sacco bello alle 20 e 30 su canale 5 nuovo aria liquido bucato a mano vi presenta questa è una tipica famiglia italiana la famiglia brandacci vivremo con loro problemi di tutti i giorni problemi generazionali ed incomprensioni insomma i soliti vecchi problemi la famiglia brandacci giovedì 10 e venerdì 11 settembre alle 20 e 30 su italia 1 nuovo aria liquido bucato a mano vi presenta mi sento tanto sole e infelice ma non mi devi piangere su ci sto io qua adesso aspettavo una tua telefonata ma insomma signor brandacci lei è un uomo sposato un padre di famiglia ma non sarebbe ora alla sua età di mettere un po la testa a posto se tu mi incontrassi adesso per la prima volta quanti anni mi daresti di una cifra sincera 18 la famiglia brandacci giovedì 10 e venerdì 11 settembre alle 20 e 30 su italia 1 ciao bimbi non sapete che presto ci sarà ok cresce giusto tutto e tutto per voi e ci saranno tanti bellissimi regali anche di più come per un bellissima macchina che potrete vincere per il fatto papà ciao a tutti mamma mia che disastro che ha combinato spirulino bambini e chissà che cos'altro mi combinerà ogni domenica comunque staremo a vedere bambini per partecipare tutto semplicissimo non ci sarà neppure bisogno che voi ci iscriviate saremo noi a venirvi a cercare direttamente a scuola mi raccomando vi aspetto prestissimo ciao è una presentazione speciale fresh and clean parla coogan hai sbagliato numero la violenza non lo può piegare perché il suo istinto è prevalente è capitato in un giro completamente diverso non è pane per i tuoi denti no adesso è diventato una faccenda personale per lui la vita è solo una questione di carattere quanto tempo di più fino a quando non me ne vado clint isford l'uomo dalla gravata di cuoio questa sera alle 20 e 30 su italia 1 america superpotenza del mondo occidentale provate a immaginarla così america dal 13 settembre su canale 5 falcon crest una terra che entra nel sangue e trasforma l'amore in tormento la forza in potere l'ambizione in avidità schiaccieremo angela e cheese come un grappolo 2 falcon crest per tutti e la vita ma non per lei voi siete gente arida e pieno di odio voi mi fate solo vergognare gina lorobrigida a falcon crest martedì alle 20 e 30 su canale 5 lunedì il rock festival di montro 1987 riempi la tua serata di musica spettacolo e emozione con i protagonisti dell'estate montro rock festival 1987 lunedì 7 settembre alle 22 e 15 su italia 1 lunedì 8 settembre alle 22 e 30 suitare�로